Che rispondi se ti dico Sahara? Svegliati, è primavera. Sai cos'è il Cairo? Una malattia dei denti. Cosa c'è dopo Alessandria? Asti. Cosa fai una volta giunto nella Valle dei Re? Un giro di Do. Cosa occupò per prima Alessandro Magno? La mensa. E quando arrivò il Saladino? Per l'aperitivo.